andrea che grandissimo piacere averti buonasera allora sei il primo chitarrista che intervisto ma sarai sempre più importante ti dico perché devi sapere che mio fratello chitarrista poi ha fatto un altro lavoro ma studiato per tanti anni la chitarra ha fatto la professione è sempre stato un tuo grandissimo fan ma anch'io in realtà perché anch'io sono appassionato di chitarristi ne ascoltate tantissimi e tutte le mattine nella cameretta nel lettino con mio fratello più grande di me mi svegliavo tutte le mattine con la tua faccia perché si era appeso un poster di te ritagliato da chitarre la guitar club non so che cosa quando ha avuto la possibilità di fare questa intervista cavolo non ci credo è come intervistare un grande batterista per me anche se sei di un altro strumento quindi un grande onore sì no anche perché generalmente il poster se l'avevamo noi di boderec no di attrici mezzo e nuda e me davanti che suona la chitarra no vabbè no noi avevamo tutti i rocchettari tutti i chitarristi anche un po di fusion avevamo frank gambale avevamo la knollsworth non so dove li pigliava sti poster ma quando c'era il magazine eh sì era veramente bello senti andrea allora parliamoci chiaro adesso i chitarristi lo sappiamo tutti come i suoni pensa se facevi il batterista e raggiungevi lo stesso livello della chitarra cosa poteva succedere al mondo ma in realtà io so che tu hai iniziato proprio della batteria e la batteria è per me lo strumento tuttora più importante a livello anche di concetto di composizione e la chitarra è arrivata molto più tardi infatti iniziai a suonare sui fustini del dash che mia madre con molta creatività mi preparò iniziai verso 3 4 anni spontaneamente però dato che mio padre si accorse che avevo il ritmo cioè che suonavo a tempo facevo le cose che andavano in sintonia no allora mi comprarono una batteria piccolina e con questa batteria piccolina anche se era un giocattolo c'era il suo tono il timpano e poi arriva un rullante della hollywood che ce l'ho ancora di più e la cosa si faceva sempre più seria ma seria a tal punto che ogni tanto c'era qualche batterista della zona molto bravo e mi diceva di qua in trentino ti insegno come si fa allora facciamo vedere lulla 2 i primi rulli a 1 come fare quelle situazioni che si fanno sull'un lante caso i nomi non mi ricordo comunque li so fare nella pratica e io ero veramente importante infatti mi sentirono anche dei musicisti di un certo tipo mi sentì gico pini mi sentì a tiglio donadio sono dei musicisti comunque di spicco che poi rincontrai alcuni dopo come chitarrista e a mio padre cioè sto qua c'è al talento sto qua deve studiare e quindi io a quel punto lì ho detto vuol dire che c'è quello che sentivo sentivo che era giusto ma non è successo neanche solo per questo perché nel mio paese a peggio dove sono cresciuto c'era un posto che si chiamava i canopi che era un posto veramente abbandonato dove infatti ogni tanto era molto curriculoso andare perché c'erano insomma ci stava gente che si faceva di brutto no quindi capitavi magari nel momento sbagliato e potevano anche correrti dietro però facevano prove questi gruppi due gruppi e il batterista aveva una ludic madre perla stupenda tipo John Bonham ma una roba che non si vedeva quasi mai perché era uno strumento incredibile e l'altro una roger sky blue pier no e entrambi quando mi vedevano dicevano ma te vuoi su un arbo vai su una dai fammi sentire no io a me non sembrava vero di andare su sta batteria che allora ero piccoletto mi sembrava una roba cioè il ton mi sembrava gigantesco però dicevano anche noi senti qua però hai capito c'era quell'anda lì no e poi una volta sono entrato senza chiederglielo e a un certo punto arrivano tutti che volevano farci e allora mi sono nascosto pensa come ero piccolo nella gran cassa era una cassa da 60 cioè quella proprio grande comunque 24 da 24 mi sono nascosto dentro la cassa e guai a fare un fiato dove si trovano ci ammazzano e quindi quello è stato anche un input perché io andavo a sentire questi qua tutta gente grande che poi ho riscoperto dopo anche come chitarrista che ci si è rivisti che avevano la pazienza di farmi suonare quindi sentivo che la cosa era giusto e in più c'era una biblioteca dove andavo a saltare ascoltare dischi di tutti i tipi perché in questa biblioteca c'erano tre piastre dove tu potevi scegliere il disco allora io vedevo uno che metteva Hendrix allora anch'io trac fammi sentire ah però l'altro metteva gli Emerson e anche Palmer trac allora mi sparavo in quel periodo infatti progressiva manetta un altro mette i Colosseum l'altro mette i Trefi un altro mette gli Aria cioè a forza di sentire io iniziavo anche a suonare in quel modo lì infatti a nove anni mi chiudevo anche nove sette otto nove ore in una stanza cioè erano andato abbastanza fuori infatti ho sempre avuto problemi con i carabinieri per la batteria quello è stato un grosso problema sì perché appena facevo tic tac tu immagina la batteria montata che arrivi in sala no e fai tic 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 dopo un attimo il campanello tac tac basta ecco quindi la batteria è stato un grosso problema da quel punto di vista lì e ho sofferto molto di poterla suonare infatti una volta ci fu una la zia di un mio amico che mi ha detto ti do la stanza però non sta a suonare massaушrte mi ha detto sul treno cioè non suonare troppo forte io iniziavo quindi facevo cioè finiva così infatti veniva suoni massaforti insomma un casino però io grazie a quello potevo suonare tutti i giorni almeno due o tre ore di batteria a tal punto che i miei a un certo punto mio padre mi disse se vuoi ti compro una batteria però devi fare una scelta precisa perché comunque la batteria era impegnativa allora no? e mi comprò una Hollywood mi ricordo, nel 72 pensa e io sono andato fuori di testa cioè l'odore della batteria, del legno io me l'andavo ad usare e mi addormentavo con l'odore del legno di quella batteria, cioè la sensazione che mi dava proprio l'oggetto, vedere il tom che puoi girare, accordarla la cassa, cioè sono andato fuori come un melone cioè ero proprio, infatti a scuola ero assente completamente se ne sono accorti tant'è che per dirti a un certo punto mi sentirono suonare poi se vuoi darmi qualche domanda no no vai, ci mancherebbe praticamente mi sentono suonare e un batterista che in quel momento era un batterista molto forte, che tra l'altro poi ci ha suonato dopo come chitarrista, perché sai in Trentino, noi che eravamo a New York e c'erano 7000 batteristi, 7000 bassisti cioè ce n'erano 10 di quelli 11 di quelli cioè la scelta era abbastanza allora sto qua io parlo in Trentino poi traduco perché per chi magari conosce un po' il Veneto in Trentino è anche divertente cioè praticamente arriva sto come ha fatto i boccia, te sei piccolo però te suoni bene cioè sei piccolo però suoni bene ti interessa suonare in gruppo? gli ho detto ah, sarei il mio sogno allora che penso mio allora ti metto un contatto allora praticamente a un certo punto l'appuntamento con questi tre tipi a casa, da miei che mio padre ospitava sempre nel salotto sai la sala migliore il licorino, la cosa allora uno con una ciuspa così una ciuspa di capelli così quell'altro con i capelli dritti cioè i lunghi madritti e quell'altro con i baffi invece pelato con un cappello alla Zabino cioè sembrava un po' Gio Zabino no? col cappellino così entrano, piacere no, perché noi siamo interessati a suo fiore perché il suo fiore è un talento mio padre invece di dire ma è piccolo 10 anni mio padre è proprio che mio padre anche se di origine veneta è nato a Genova quindi parlava in genovese allora fa guardi è piccolo però se avete la responsabilità non ci sono problemi allora io a quel momento ho detto ci sono ho realizzato il sogno il giorno dopo ero fuori come una biscia e il cantante viene a prendermi con la sua 500 la mia Hollywood stistiamo malapena in macchina con la batteria tutta dietro tamburi, piatti, meccaniche lui che guidava io avanti e quando siamo arrivati alla sala prove che abbiamo montato la batteria abbiamo suonato appare il cuspone che aveva l'organo in pari tipo un Hammond leggermente più piccolo abbiamo iniziato a fare un'improvvisazione tipo sulle orme sul collage quelle robe lì molto progressi è iniziato cioè tipo io dietro con la batteria quindi è stata un'emozione pazzesca ecco questo un po' è stato l'inizio di tutta la faccenda quella che mi ha portato ad abbandonare la batteria per suonare la chitarra no 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 perché la batteria io ho sempre continuato a suonarla fino ai 16 anni però nel frattempo subentrò la chitarra per un fatto anche di emulazione perché vedevo questo tipo qua che suonava la chitarra nel gruppo che era il chitarrista che si contorceva in modo disumano cioè quando faceva gli assoli sembrava che prendesse una pugnalata io ho detto ma che cavolo di strumento è uno strumento che senti una roba così quando suonare perché la batteria è molto fisica io mi ricordo facevamo Soul Sacrifice e venivano a vedermi anche dalle altre regioni cioè venivano a vedermi per dirti dall'Alto Adige questo bocetta cioè questo ragazzino che suonava Soul Sacrifice con quell'energia no e avevo 12 anni praticamente quindi la chitarra mi è venuto proprio ho detto voglio capire la chitarra cos'ha oltre alla batteria erano le notte questo è stato un po' senti per chi non lo sapesse io adesso faccio vedere un tuo videino alla batteria perché questo è di una decina d'anni fa mi sembra l'ho pescato su un tuo YouTube andiamola a vedere ah sì anche di più questo è del 2009 credo stavo registrando un disco in casa e avevo messo tutto il tuo a che doppi c'è questo per dire questo per dire che non è che suoni la batteria per passione tu ci fai proprio i dischi dove suoni basso batteria e chitarra ecco per dire che potresti chiamare anche tutti i musicisti amici tuoi e chiedere favori o pagarli ma evidentemente sei soddisfatto più quando suoni tu i tuoi strumenti ad esempio questa è una domanda interessante perché suoni tutto tu o invece che chiamare musicisti perché ti trovi meglio o perché non lo so vuoi dimostrare che puoi farlo no beh c'è da fare un distinguo ho suonato in alcuni dischi tutti io in altri alcune parti in altri invece ho affidato completamente la batteria ad altri batteristi il basso faccio più fatica ad affidarlo dei bassisti perché è talmente rapido il modo in cui io posso tenere quello che ho in testa che spiegarlo a un musicista dovrei comunque scrivere una parte o dovrei stare lì del tempo invece io attacco il basso suono e alla prima o alla seconda è buono aspetta sentiamo anche il basso che ho anche questo così capiamo di che livello stiamo parlando questo è un funk andiamo a sentirlo chitarre basso ecco per dire tanto per far capire un po' l'anda ma quindi in sostanza tu eri lì a 10-11 anni eri ancora in un mondo esplorativo quindi suonavi la batteria però eri affascinato dalla chitarra nel frattempo ascoltavi gli altri strumenti eccetera eccetera quando ti sei buttato sulla chitarra diciamo quanto è stato facile capire meglio lo strumento avendo già suonato la batteria avendo questa mente molto aperta che chiaramente non tutti hanno e evidentemente è un dono io adesso non so se tu avessi dei musicisti in famiglia o qualcuno che ti avesse dato questa come dire molti musicisti che ho intervistato spesso sono figli d'arte oppure hanno qualcuno in casa che comunque li ha educati tu vieni da quella strada o tuo padre i tuoi genitori non erano in quel mondo semplicemente ti hanno dato modo di fare no mia madre dipingeva quindi aveva fatto scuola d'arte l'accademia d'arte di belle arti quindi disegnava dipingeva c'era questa vena e mio padre non ha mai potuto suonare perché tra la guerra e le storie che sono successe anche se quando ha fatto la guerra era veramente 17 anni comunque ha fatto la seconda guerra mondiale e quindi non ha potuto mai diciamo applicarsi alla musica però ce l'aveva dentro infatti si comprava degli strumenti giocattolo tipo sai i Buontempi che si vendevano allora nei supermercati che adesso non ci sono più buoni sia la sassofono la tomba la chitarra e suonava tirava fuori delle cose e mi diceva questo vedi è Stranger in Denai di Franz Sinatra allora io sentivo e provavo a farlo sulla chitarra perché la batteria ovviamente ormai era un campo esplorato avevo anche i miei batteristi di riferimento che erano John Heisman di Colosseum mi piaceva tantissimo mi piace tuttora Carl Palmer con cui poi ci ho suonato abbiamo fatto anche un tour e poi mi piaceva moltissimo Mitchell che ritengo il batterista più bravo che abbia mai avuto Hendrix anche se Hendrix ha provato altri batteristi quando provò Buddy Miles però Mitchell è quello che ha capito veramente la musica di Hendrix e ce ne sono pochi che suonano Hendrix in quel modo lì perché è molto più semplice di un Dave Wekel di un batterista magari di un Tony Lang Tommy Lang quello lì cioè roba molto però quando accompagna c'è tutta una storia che accompagna bene la canzone detto questo la chitarra l'approccio è stato ritmo cioè praticamente io ho preso una chitarra classica che era di mia sorella e l'ho accordata a tutte in me cioè erano tutti erano tutti in me così e facevo delle robe ritmiche tipo cioè provavo a rifare le cose che facevo sulla batteria dandone un senso ritmo poi su una nota ho iniziato su una nota tipo però chiaramente avevo le difficoltà tecniche cioè non riuscivo a far uscire dei suoni decenti è stato molto faticoso all'inizio tra la sinistra soprattutto per fare gli accordi però anche lì sono stato molto precoce perché il chitarrista del gruppo dove appunto sono la batteria mi ha detto guarda ti do gli accordi però stai tranquillo perché è molto faticoso una volta che mi diede gli accordi cioè in un mese gli facevo tutte le posizioni per risolvere allora sono arrivato e ho detto scusate devo far vedere una roba ha iniziato mi fa ma come è possibile un mese no? è possibile sì ma poi guarda improvviso anche un blues su un pezzo dei famosissimo gruppo di Detroit quelli che avevano fatto il airbreaker il pezzo la sto qua comunque come è possibile che in un mese ho detto guarda non so ce l'avevo qui sentivo e a forza di provare mi è venuta fuori quella roba lì e sempre migliorandola tutti i giorni e quindi mi prendeva sempre di più e alla fine quello che ho ascoltato da batterista lo stavo trasferendo sulla chitarra in modo sia ritmico che è stato fondamentale e anche a livello di divisione se vuoi non solo la ritmica intesa come stare sul tempo ma proprio le divisioni per esempio se con la batteria facevo allora con la chitarra poi vedevo che era tutto collegato cioè purtroppo i generi musicali sono un'invenzione dell'uomo queste divisioni che nella musica non esistono perché tu senti non so senti il jazz e metti sotto una base blues ci sta benissimo cioè è tutto molto collegato il funky parliamo di James Brown cioè tu vedi le ritmiche di James Brown cioè c'è scritto molto di quello che si fa adesso in modo chiaramente più rudimentale però c'era già scritto tutto lì quindi io quando sentivo tipo cioè dicevo senti che com'è tutto collegato al ritmo alla batteria cioè la ritmica comandava e comanda sempre per me il musicista è la prima cosa che mi deve trasmettere è la ritmicità c'è da dire ragazzi che con Brydon non serve neanche il batterista cioè fa tutto lì con la chitarra perché ci sta facendo ballare senti Massimo cosa dice dice abito a Baselga di Pinè provincia di Trento e non avete idea di quanti chitarristi 65 anni 70 anni sostengono di essere stati il primo maestro del braido grande allora posso svelare anche io cioè non ci sono segreti no il primo maestro da un punto di vista chitarrista che è stato Luca Casagranda che era il chitarrista del gruppo è lui che mi ha dato le prime info e poi un altro fu Luciano Holzer che è invece del Barisemio di Pergine che mi mostrò la prima tele mi fece sentire lì è stata proprio la svolta perché mentre con il chitarrista del gruppo si parlava di Bustock si parlava quindi di alcuni chitarristi di Pete Townshend Alvin Lee si parlava ogni tanto di Blackburn però soprattutto di Hendrix di Santana di Salt Sacrifice con questo mio amico qua di Pergine si parlava di tutta altra roba cioè parlavamo di Hendrix però dopo un po' mi faceva sentite giù sentite giù che ti faccio sentire e oltre che mostrarmi la sua bellissima telecaster che è ancora del 69 bianca e farmi sentire delle cose un po' indrixiane ha una collezione di dischi che prendeva un disco e mi diceva senti qua mi faceva sentire Wes Montgomery allora io sai da piccolo così che ero all'inizio della chitarra e stavo improvvisando molto rock e soprattutto blu sentire che storia è che storia è che suono è e andavo a casa tutta la notte e mi dicevo ma cosa mi ha trasmesso poi il giorno dopo mi fa sentire Cicorea con il Dottor Florea no cioè mi ha dato delle botte poi Weather Report Giacomo mi ricordo quando compro il primo disco di Giacomo che mise su il disco di Giacomo non riuscivo a capacitarmi cioè piangevo hai capito l'emozione cioè sentire fare Donna Lì col basso in quel modo lì con quella ritmicità ho detto non so non ho parole e ancora adesso quando sento Giacomo fare quel disco ma non solo è un'emozione pazzesca quindi mi faceva sentire Otis Redding James Brown ma poi mi faceva detto Sanra Ornette Coleman e anche lì batteristi ogni volta che io ascoltavo ecco la cosa bella che io sono cresciuto ascoltando i migliori batteristi esistenti perché praticamente oltre a quelli con cui potevo suonare che erano i migliori che magari c'erano nella zona però ascoltando i dischi che ho ascoltato io mi sono sparato tutti i batteristi possibili infatti sono un appassionato anche della storia della batteria a partire da Sid Catelet con Luis Ampton cioè i batteristi proprio primordiali per arrivare poi ai soliti James Krupa Badirich soprattutto i neri mi piaceva molto per me il maestro Max Rocha ecco per me quello è uno dei punti di riferimento proprio anche degli esercizi quando ti siede la batteria che c'è il famoso disco Drum Unlimited che ce l'ho e l'ho trovato anche in CD che dice cioè tenendosi il Charleston e la cassa quindi è sempre stato fondamentale e rispondendo alla domanda cioè la cosa che hai detto prima in realtà ho suonato il mio primo disco tutti gli strumenti e in altri dischi ho suonato alcuni brani ma in realtà ho dato spazio a molti batteristi che citerei vai ecco nei miei dischi si può partire con allora il bizarra avventura di Dottor Cragno si chiamai Davide Ragazzoni con cui avevamo condiviso poi il tour di Branduardi dove io lo chiamai personalmente con Patti Bravo e molti concerti fusion del mio trio quindi in quel disco lì le batterie sono praticamente sue io non suonato neanche una batteria in quel disco lì poi nel disco successivo invece quelli che ho iniziato a fare io da solista beh c'è un altro disco dedicato a Rob dove c'è un bravissimo Marcello Surace e lì è un disco proprio hard rock molto molto all'allezza infatti lui suonava con quel suono lì con la piero molto grande e quando batteva ci dava delle mazzate potenti infatti nel disco esce fuori questo suono per poi ritornare a un disco che ho suonato tutto da solo che è sensazioni nel tempo e poi subito dopo cambiare di nuovo invece ho fatto un disco dove ho chiamato soprattutto marimba dei marimisti silofono strumenti che proprio ho sempre amato ma che non potevo suonare e poi invece nel disco Jazz Garden richiamai ragazzoni con un altro bassista Bruno Zoya facendo un disco proprio jazz in trio in diretta e poi Latin Brideus dove invece ci sono vari batteristi perché suono la batteria in un 3-4 brano però c'è Francesco Cordino con cui avevamo condiviso già parecchi concerti live nel mio progetto Hendrix ci sono c'è Michi Uli che è un bravissimo batterista di Foggia o lì vicino che quando io lo senti aveva tipo 18 anni un talento mostruoso una tecnica e un'energia soprattutto animale mi ricordava molto il primo Terri Bozio come quell'impatto proprio animalesco poi Magreto quindi me lo ricordava anche proprio anche com'era e suona anche lui e poi la batteria aspetta mi pare che non ci sono forse in quel disco lì siamo interiabatteristi non l'ho chiamato altro poi però nel disco successivo invece che c'era già c'è stata una collaborazione chiamai Alessandro Napolitano e facevo un disco dedicato al jazz in trio con Vito Di Modugno quindi un disco in trio e lì la batteria non l'ho suonata diciamo che la batteria l'ho suonata in determinate situazioni dove per esempio nel disco Jazz Garden c'è un brano dedicato a Zappa che ho suonato al batterio perché avevo proprio in mente tutta la composizione e l'andamento diciamo che purtroppo ultimamente ho poco tempo di suonare la batteria perché la chitarra mi assorbe tantissimo il basso a volte ecco perché andiamo un attimo anche su questa roba qua perché tu sai che ho fatto un paio di interviste a Daniele Tedeschi ma questo so che non è una leggenda metropolitana che tu ancora oggi dedichi tantissimo se mi confermi dedichi tantissimo tempo allo studio dello strumento cioè è proprio una routine non so se cos'è una routine quotidiana ti piace studiare vuoi conoscere del resto per suonare così non puoi non dedicarci tempo perché tra parentesi probabilmente molti di noi ti hanno scoperto per la prima volta facendo rock cioè Vasco Rossi fronte del palco poi il tour con Zucchero poi magari parliamo anche di quegli anni che sono stati gli anni in cui io avevo il poster attaccato in cameretta come dicevo vabbè lì eri comunque giovanissimo però avevi già fatto le tue esperienze ma tu fino adesso mi hai parlato di dischi fusion di dischi jazz anche di rock and roll della cosa con cui sei cresciuto diciamo hai un linguaggio una versatilità ti si può sentire combina ti si può sentire fare jazz hai una versatilità che pochi musicisti probabilmente al mondo hanno io lo dico proprio chiaro e tondo nella batteria non ci sono tanti musicisti conti proprio sulle dita di una mano forse i batteristi che cliccano il tasto e possono fare questo questo quello quello quindi spiegami sta cosa fa parte dello studio il fatto che studi così tanto o pratichi come tanto è una necessità che tu senti per te stesso è un obbligo che ti imponi allora ti risponderò per ordine allora innanzitutto è una leggenda metropolitana che studio 8-10 ore al giorno questo l'ho fatto a 16 anni 17-18 anni in quegli anni lì veramente sembravo un alieno perché quando uscivo di casa guardavo tutti e capito così tipo perché mi guardi da cosa c'è cioè sembravo un deniro hai capito ogni volta mi guardi me perché è uno che sta 10 ore a suonare in queste 10 ore ci sono due ore di di parkour due ore di charlie parker due ore di web report due ore di buck cioè tu immagina quando uscivo fuori avevo gli occhi così perché anche le donne guardavo si sentivano osservate mi dicevo è strano quel tipo lì perché chiaramente sembrava un lupo mannaro che usciva allo scoperto in quel periodo studiavo così poi ho ottenuto una disciplina diciamo la mia fortuna è stata anche quella di essere uno molto mi sento come un samurai capisci un samurai ha una disciplina tutta la vita non ce l'ha un anno un giorno poi no quindi per me studiare ogni giorno è non solo un bisogno fisico ma proprio mi eleva l'anima in un altro stadio cioè la musica mi dà quella gioia che non trovo cioè ci sono altre cose che mi danno gioia ovviamente per esempio c'è un cane fantastico quando andiamo a camminare gli animali hanno una loro storia una loro sensibilità diversa che è molto intuitiva e mi piace molto perché si basa su altri livelli rispetto a quella con gli umani quindi comunichi anche solo con un'occhiata insomma c'è un'altra storia però la musica io se non suono divento una persona molto cattiva non è che divento cattivo però l'energia che ho dentro devo poterla farla di più e con la musica perché mi fa sentire che il sentimento tutto quello che ho vissuto va lì quindi non è solo cioè non è lo studio molti ancora mi parlano di tecnica io rimango veramente allibito perché se io fossi veramente un chitarrista tecnico in quel senso lì che mi dicono cioè senza gusto ma non avrei suonato con nessuno invece mi sono confrontato con dei musicisti anche mondiali vedi Frank Gambale Marcus Miller e quando mi hanno sentito hanno recepito quello che io gli trasmettevo ritmicamente e armonicamente non c'entra la tecnica la tecnica è come un muratore e l'ho già detto molte volte che se non sa fare le fondamenta la casa crolla quindi se hai delle buone fondamenta puoi iniziare a mettere mattone su mattone ma se non hai queste fondamenta la casa si sgrettola e la stessa cosa nella tecnica non è che uno ha 50 anni si può mettergli a fare a suonare come Steve Vai per fare un esempio devi farlo molto prima perché se vuoi suonare come Steve Vai già a 15 anni qualcosina di quelle andali le facevi infatti io per dirti a 15 anni mi sparavo di Steve Vai tutto a Forever al Dimeo la Mavismo Orchestra è lì che ascoltavo Lenny White ma tu pensi questo perché pensi che a 50 anni non hai più l'elasticità mentale per poter fare quello cioè voglio dire immagino che quando tu avevi quelle 8-10 ore di studio quotidiane non fossero calcolate tipo adesso faccio due ore di questo due ore di questo magari la tua passione la tua voglia di scoprire ti portava a studiare delle cose non so se tu hai studiato nella maniera tradizionale coi libri coi manuali facciamo questo le routine di studio mi insegno le cose dammi anche un tuo punto di vista su come deve essere inteso lo studio e il progresso perché questo è importantissimo per tutti gli strumenti musicali no? sì sì vale per la batteria per il basso allora no io invece so che potrò sembrare pazzo ma ero proprio così io dicevo due ore di Mavismo Orchestra io in quelle due ore mi immergevo totalmente in quel mood lì quindi per dirci c'erano faccio un esempio anche musicale che è molto bello c'è anche un bellissimo phasing c'è un arpeggio per esempio bellissimo della Mavismo che è questo qua qua sotto una rada Michael Gordon faceva il disastro cioè io a sentire la batteria sotto questo arpeggio tutto dispari mi faceva impazzire quindi io dovevo entrare in quel mood come quando invece sentivo un pezzo di Charlie Parker e dicevo come faccio io con la chitarra a entrare in quel tipo di fluidità e per questo dovevo studiare perché il fare cioè non potevo non studiare la tecnica cioè il rapporto tra destra e sinistra per suonare con la musica lì il rapporto però con la teoria quello che dicevi prima cioè i metodi in realtà io ho avuto un paio di lezioni da un chitarrista jazz di Trento che però era molto razzista nel rock e questo non mi piaceva perché mi ricordo che aveva un gruppo che lì era un gruppo di figli cioè dicevano toi suona quelli stasera quindi c'era tutta l'atmosfera mi ricordo che facevano Smoking the Water facevano I Am A Man di Chicago però lui era molto razzista nel suonare cioè le dico che quando faceva gli assoli era tutto vuol dire che cazzo di musica è questa e io dicevo ma perché tratta così il rock che non è meno importante di un'altra musica anzi ha un potere emozionale molto diverso infatti la prima lezione mi ha detto prenditi una semiacustica no ascolta Barney Kessler ascolta Joe Passi io ho detto sì sì beh certamente infatti Joe Pass tra questi me lo sono ascoltato di brutto anche Barney Kessler poi Wes Montgomery Josh Benson Kenny Barrel tantissimi chitarristi Franco Cherry tantissimi chitarristi però il suo approccio era molto ti faccio limitazione non me ne vogliano i chitarristi jazz comunque l'atteggiamento era questo che mi affascinava però come dicevo a du maron fa sentire anche un po' di energia cioè puoi suonare sempre ti 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 se no come faccio a ripetere un pezzo di tizi di lesbi tipo cioè per ripetere quelle cose lì io volevo suonare con la stessa fluidità dei fiati e questo è stato un grande una grande battaglia poi nel frattempo ho studiato anche pianoforte un paio d'anni a conservatorio alla scuola musica di Persine però non volevo imparare la musica quindi mi hanno mandato via un sacco di volte e le ore di solfeggio erano terribili perché io non volevo proprio imparare cioè io andavo a casa e dicevo sì ok do re mi ci 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 andavo lì tutti beve do si do re mi fa so si do fa re mi bravo molto bene passiamo a te che Paoli prego si do re mi fa so si do re mi fa so si do re mi fa so si cioè quindi sono stato escusso dalla scuola una cifra di volte poi a un certo punto incontro uno che è stata la l'immagine cioè proprio la il classico la persona che mi ha cambiato la la visione di quello studio no perché io chiaramente sono a orecchio ma perché devo imparare le note se ce l'ho già in testa quella è stata uno scalino molto difficile perché io sentivo fare per esempio e lo ripetevo chiaramente lo facevo magari meno bene di adesso però lo suonavo e ci vedevo tutti con queste partiture no guarda qua devi fare così qua se cambia e mi sentivo non inferiore perché non è un sentimento che ho provato però mi sentivo di non essere in quella dimensione quindi se mi fosse capitato come facevo allora incontro uno il classico tipo mentre andavo a scuola d'arte ho fatto un solo anno di scuola d'arte perché la musica poi mi ha rapito subito e intanto mi ha massacrato perché mi ha detto cos'è che ascolti? ma ora ascolto Hendrix di Purple poi ogni tanto ascolto The Return of Forever sì ma ti devi ascoltare questo disco qua e mi ha dato mi ha prestato il suo disco di Elegant Gipsy di Aldi Meola praticamente questo disco qua già nel primo pezzo Steve Gadd Anthony Jackson Ian Hammer Mingo Lewis quando ho messo il suo ho detto non sono capace a suonare cioè devo ricominciare allora io ho iniziato a dire devo imparare la musica cioè devo imparare qualcosa di più che non sia solo l'istinto allora incontro un altro tipo mi fa guarda voi chitarristi perché c'è anche questa cosa qua lui suona dei fiati non so un trombettista e ce l'hanno su quei chitarristi perché c'è anche le vignette vedo su Instagram che fanno vedere che i chitarristi non leggono mai una nota c'è molto questa cosa qua che non è ancora di batteristi sì però il batterista sai per esempio io sono abituato ho suonato con dei bellissimi batteristi italiani che molto con la parte cioè no che sanno leggere quasi tutti quelli con cui sono nato sanno leggere devo dire mi è andata bene e quindi questo qua mi fa ti vuoi imparare la musica te compri il Bona Metodo Bona Solfeggio io vado a comprare sto libricino che il mio era rosso infatti lo conservo ancora da qualche parte mi sono messo lì ho detto se non imparo la musica vuol dire che c'ho dei problemi perché non è possibile che suono capisco la divisione non possa trasferirla su un pezzo di carta all'inizio dopo due mesi no mi fa si fa si andavo via come una scheggia infatti vado a scuola il direttore della scuola che era anche l'insegnante di Torre Sottese fa ora bravi devo stare a torno per i coiomini perché te mando a casa un'altra volta e definitivamente non c'è bisogno di traduzione credere no allora io no no tranquillo che esercizio il 25 il 32 pronti si fa si ma ti ho capito terzine sestine ma cosa ti è successo è stato bellissimo la pancia sua mi fa ma cosa ti è successo mi sono impegnato mi sono messo a studiare e via e ho dato il diploma direttamente del terzo anno del terzo solteggio così almeno quella cosa lì me la sono tolta dai piedi da un punto di vista anche di dire mi capita una parte non so un libro di accordi un libro di armonia un pezzo che devo leggere qualcosa lo so fare poi chiaro che ho dovuto anche esercitarmi perché legge non è automatico soprattutto sulla chitarra è molto scomoda perché hai le note lì e il ritmo però lo fai con la mano destra quindi non è come il pianoforte che hai tutta una situazione abbastanza insieme cioè hai questa divisione infatti la chitarra è uno degli strumenti forse più angusti e più difficili per leggere comunque ho imparato quella cosa lì è questa quindi nel mio studio c'era moltissima pratica e un po' di teoria perché la teoria era già capisci ascoltare quella musica lì per forza cioè concludo per dirti ascoltavo un pezzo di questa cosa per esempio ascoltavo un disco di Miles che può essere In a Silent Wait o Bishes Brew e sentivo sempre quando ho scoperto il Mi Settimanona guarda non so dirti l'emozione cioè mi sembrava veramente di essere entrato in una dimensione parallela perché sentire perché poi l'ho collegato l'ho collegato a John McLaughlin alla Malisme che lo usava invece in modo indiano quindi sentivi sto parlando qua Miles magari stava molto sulla terza maggiore e la terza minore quindi sentivi invece McLaughlin iniziava insomma sono andato fuori veramente e guarda era come se mi drogassi naturalmente cioè mettevo su un disco e la testa che spettacolo che spettacolo che spettacolo un periodo di intensità enorme infatti dico la verità non ha avuto spazio per molto alto nel senso che anche i rapporti con l'altro sesso erano molto problematici perché io ero molto diretto capisci cioè io suonavo e mi esprimevo come suonavo quindi andavo lì da una tipa non è che stavo lì a fargli accorte cosa che ho capito molti anni dopo cioè non è che stavo lì e dicevo ascolta ti vieni con me o no? e spesso andavo guarda vabbè questa l'hanno vista tutti chiunque abbia visto la prima intervista che ho fatto a Daniele racconta questa cosa lui ha una grandissima stima dei tuoi confronti e diceva adesso parliamo anche di Vasco noi eravamo con Vasco lì con il soliere e dicevo dai Braido andiamo a fighe andiamo a fighe no ragazzi vado in camera a studiare ma dai cosa vuoi studiare che fino al 3000 te sei a posto questa è stata la frase questa è vero è vero sono portato una volta a Roma che me ne sono pentito però perché il tour del spari sopra è stato un tour molto strano rispetto a fronte del palco il fatto che c'era anche i soglieri c'era il gallo che invece aspetta aspetta partiamo dall'inizio di Vasco perché questa la dobbiamo raccontare tu hai fatto fronte del palco quel disco straordinario live insomma lì veramente ti abbiamo conosciuto almeno io ero un bambino però quando sei arrivato tu in quel disco lì e poi successivamente sei andato a fare il tour di zucchero quello con la VHS in Russia c'eri ancora tu cioè lì sembrava che fosse arrivato veramente un alieno come ci sei entrato in contatto con questa situazione con queste proprio le situazioni top che c'erano in quegli anni cioè Juventus e capito e Inter non so come dire adesso non voglio non dico Milan adesso mi linciano io sono tifoso di calcio quindi ho detto due squadre vabbè però per dire no allora bisogna fare un attimo però un passo indietro è importante dire questo io durante il militare sognavo di andare in America perché le esperienze precedenti al militare avevo conosciuto dei musicisti molto jazz di Padova che erano proprio dentro quella storia lì quindi mi parlavano di Coltrane suonavamo brani di Coltrane quelli più semplici suonavamo brani di Herbie Hancock quelli molto modali e quindi ho detto io devo andare in America e quindi ho detto a mio padre guarda guarda io quando venisco militare voglio andare là voglio fare questa esperienza lui mi diede una mano per il biglietto aereo e poi ho detto guarda quando sei là però devi arrangiarti perché è una scelta importante allora io andai da dei lito all'americano a Boston frequentai qualche giorno la Berkeley School anche se lì trovai un guitarista che sentendo mi ha detto se vuoi stare alla Berkeley impari molto perché puoi incontrare chiunque cioè tu alla Berkeley puoi incontrare veramente da Padmettini a cosa ti posso dire a Buddy Rich cioè tutti vengono alla Berkeley ogni tanto a fare uno stage e hai modo di vederli dal vivo però se vuoi un consiglio vai a New York perché sei in una fase che secondo me l'adrenalina è giusta per andare a New York e io l'ho preso in parola quindi dopo pochi giorni che ero a Boston di questi qua che mi avevano ospitato no io andrei a New York e la signora che mi ospitava ha detto no è malamente D'Angelo è D'Angelo se andiamo a New York è malamente quello non andare tu non sai New York City io ho detto sì ma ormai ho preso il biglietto devo andarci avevo preso appuntamento da un'altra famiglia che stava nel North Bronx perché il nipote era militare con me quindi mi ha detto di Carisolo quindi questo parlava un po' in Bersano mi fa puto quando vai a New York guarda mia zina che ti ospitano cosa vuoi che sia allora mi sono il numero pronto signore buonomi guarda io sono un amico sì vieni qui vieni qui nel Bronx New York non c'è problema allora arrivo a New York e da lì subito è iniziato un film pazzesco cioè ho iniziato a frequentare dei musicisti che ho saputo che erano New York hitler americani tra cui qualcuno di questi qua miei amici padovani che erano New York e quindi mi hanno detto vieni che andiamo a fare jam session allora ho passato un mese di delirio ho suonato intanto con dei musicisti assurdi perché una sera per dirvi c'era un concerto di Billy Hart con Dave Lidman Eddie Gomez e io ero lì che bevevo il caffè tipo al banco a un certo punto mi volto e vedo che c'è Eddie Gomez di fianco a me mi fa ok ok very good you play play guitar insomma si inizia a parlare a un certo punto mi chiamano a fare jam session quindi mi sono trovato lì cioè avevo il cuore capito che batteva mille a sentire Billy Hart che l'avevo sentito con Miles cioè batterista mostruoso energitissimo poi Gomez tutti i musicisti così e ogni sera succedeva una roba pazzesca poi i musicisti anche non conosciuti ma bravissimi a Brooklyn Bronx così questo perché te lo dico perché è stata l'esperienza assolutamente fondamentale per capire anche le audizioni quindi io ritornai da questa esperienza molto carico però andai molto in depressione un po' depressione tra virgolette perché i batteristi erano sempre gli stessi i bassisti erano sempre gli stessi ho detto cosa faccio dopo un po' ero stufo ho detto forse facciamo meglio rimanere a New York va bene comunque a un certo punto mi trovo con un musicista di Padova per questo per arrivare a Vasco perché c'è un percorso ovviamente mi chiamano questo percussionista con cui facevamo Weather Report e io suonavo molto il basso tra l'altro perché in quel momento la chitarra la usavo ma usavo più il basso e suonavamo pezzi bellissimi di Weather Report e altre composizioni con dei musicisti anche trentini e questo percussionista di Verona mi chiamava e mi fa ascolta guarda che sei a Patti Bravo che cerca un chitarrista secondo me te sei giusto per suonare con lei cioè sei giusto il chitarrista per lei ho detto sì ma cosa suono i pezzi di Patti Bravo a parte Pazzaidea pensiero stupendo che sentivo da bambino quando andavo a patinare in Trentino sai mettevano su sti pezzi e ti rimanevano l'orecchio e fa no no non si preoccuparti porta a Fender Bianca e dico guarda c'ho solo quella quindi porto quella vado a questa audizione a Milano tutto gasato e incontro il bassista che era Andrea Verardi che sembrava Giaco e capito i capelli neri lunghissimi sembrava un indiano con il Fender Jazz poi c'era il batterista c'era sempre le ragazzoni questo percussionista Francesco Svazzabia di Verona e un altro tastierista di Milano praticamente non sta a sonar che jazz Faga Hendrix dico va bene allora io mi ero portato il Wawa che questa sera ho tenuto alla mano allora mi fa Faga e vuoi di ciai allora io entro lì mi guarda così e fa sono molto curioso allora io inizio lei fa su un nube cioè praticamente gli ho suonato due tre stiterate ho anche esagerato un po' cioè tipo ho fatto una roba e quindi sono entrato in questa nuova esperienza molto impegnativa perché lei era tutt'altro che facile suonare con lei nel senso che dovevi sempre avere gli occhi aperti quella è stata una bella scuola e poi ho imparato suonando con lei il respiro cioè lei quando cantava tipo un pezzo lento tipo c'era una roba dovevo aspettare il suo respiro capisci non potevi essere tu come un direttore dell'orchestra che fa andare l'orchestra cioè dovevo stare sempre molto al respiro e le sue pause questo è stata una bella scuola chiaramente sono stati momenti di panico quando lei abbandonava il palco e noi rimanevamo lì così e falano dove è andata Patti però guarda io suono una chitarra non so chieda quello lì sì perché io no no me la sono sempre sviata perché tipo è successo una volta a Caser dove sta eh dove in americano gli ho detto è preghita I don't know cioè cosa ne so io dove è andata io sono la chitarra perché dopo un po' la mettevo giù ci vediamo dopo capito succedono situazioni così era molto normale che succedesse quindi è stata una bella esperienza però ero anche un po' stufa a volte di certe situazioni perché io volevo fare infatti nel frattempo suonavo a Milano è stato un periodo importante perché conobbi a Tiglio Zanchi che mi chiamò in un progetto interessante dove c'era un Christian Meyer giovanissimo che aveva forse due anni più di me circa che era il batterista del momento perché si diceva suona tipo dei Wackel infatti io non avevo mai sentito suonare quel modo lì la batteria e lui era molto questo modo qua non è molto preciso anche di fare i passaggi le cose e suonai in un gruppo dove c'era Cinzia Sparta che cantava Zanchi al contrabbasso e Cristiano la batteria o la chitarra quindi entrai in questo ambiente jazz e quindi oltre a fare i tour con Patti Pravo le cose facevo anche altre cose poi nel frattempo una volta in un locale è saltato fuori i bacini ma sarebbe tante robe da raccontare per arrivare a Vasco ti posso dire che proprio per il fatto che saltò un tour con Patti Pravo nell'88 e quindi io mi ero già comprato il mio marcellino GCM50 cioè ero gasatissimo e a un certo punto mi chiamò il manager e gli ho detto ma allora quando è che parte il tour perché abbiamo fatto il disco che era oltre l'Eden abbiamo fatto un sacco di cose cioè quando è che guarda non c'era un cazzo capito per solo turigoione voglio usare niente a me dispiace guarda mi sono rimasto così e ho detto e adesso cioè me l'ho comprato l'ampli arate capito perché comunque GCM50 valvola era un bel amplificatorino allora insomma ancora adesso quando me ne trovo uno tra le mani mi piace e quindi ho detto cosa faccio e in quel momento lì mi sono organizzato a farmi delle basi di tutti i generi da chitarra romana a pace dance di Padmettini a Beardland dei Weather Report cioè facevo di tutto perché andai in una pizzeria di un mio amico in Trentino a suonare e una di queste sere un sabato tra l'altro io avevo oltre la chitarra elettrica oltre la strato avevo una Roland quindi quando partivo con le storie tipo Padmettini cioè sembravano i dieci che suonavano perché ci davo dentro le basi me le avevo fatte io con un quattro piste molto l'X15 della Fostex quindi gli albori della registrazione e a un certo punto mi avvicina un tipo con i capelli sparati che sembrava un po' uno degli Spandau Ballet mi fa ma te suoni veramente cioè no sono molto bravo ma suoni ma sì certo non suono mica per finta era Andrea e Nesta quindi dopo un po' dopo quando è finito viene in mia tavola mi fidanzate beviamo una cosa capito allora vado lì mi siedo e il Favos è bravissimo cioè io sono il Vasco Rossi e io che Vasco lo conoscevo dai video però non era un musicista che era ancora esploso tantissimo cioè era già famoso però io sinceramente seguivo molta roba più dura capito più jazz più fusion oppure hard rock Van Allen di parlo cioè ascoltavo altre cose se non il solito di Andrè che veniva sempre proposto nella sua dimensione cantautorale cucini questi no e quindi mi ricordavo di una spread della giornata però no ah sì dico bene ma sai capito c'era sul Fenissi Vasco Rossi c'hai capito una storia una staccia scusa di guarda non lo conosco benissimo comunque ti lascio il mio numero quindi lì lasciai il numero passarono un po' di mesi e mi chiamarono a fare la prima audizione che fu nel l'audizione fu nel novembre fine novembre 88 quindi subito dopo sarebbero partite le prove in fronte del parco quindi quando io arrivo lì non mi preoccupai molto del look delle cose perché sono sempre stato molto me stesso in queste cose cioè non mi sono fatto mai troppo condizionare dagli altri perché sai mi sono presentato c'era la barba lunga sembrava l'uomo secolo del tonno nostromo no? maglia dolce vita mi sono presentato proprio molto come ero io in quel momento cioè ho detto io suono la chitarra eccomi qua quando mi sono stato suonare ho dato via il delirio dei deliri cioè ho suonato tutto come mi andava di fare quindi anche se il pezzo era non so tipo cosa succede in città o un altro brano che loro facevano la ritmica Daniele il bassista che c'era allora che poi non è stato quello che era in tour perché venne Martinez appunto e Andrea è un altro tastierista non c'era ancora Rocchetti quindi eravamo proprio nella fase iniziale e lì io suonai però Vasco disse una frase disse questo è bravissimo però ci ho capito cazzo cioè non so cosa fare cioè c'è stato quel clima lì poi siamo andati a cena perché lui mi ricordo che mi disse ma tu la mia musica la suoneresti beh sì devo capire un attimo così e quindi ci furono altre due tre audizioni perché io nel frattempo stavo facendo un disco di Baccini che era Baccini Cartons che eravamo quasi alla fine poi mi chiamò Davide Liondino a fare un altro disco stranissimo che si chiama Racconti Picareschi lui era sempre da Costanza in quel periodo quindi un disco molto quasi teatrale però suonai tutti gli strumenti chiamai anche altri musicisti però suonai una situazione strana e quindi non è che ho presi non è che l'ha preso sotto gamba però a me l'idea di tirarmi giù nota per nota mi stava sui maroni ho detto no non fa per me non è il mio modo di sentire la musica quindi feci altre due audizioni e mi ricordo che Nesto e anche i tedeschi si incazzarono un po' perché mi hanno detto te non puoi fare tutte quelle robe devi dirle quelle storie sue devi fare io non capivo continuavo a dire non so cosa vogliono cioè mi sembravano delle canzoni molto semplici in fondo finché alla terza audizione probabilmente c'era stato un colloquio tra tedeschi e Vasco che io però non sono mai stato non sono mai stato presente a questo colloquio io so solo che mi chiamò alla fine delle prove Vasco fuori dalla stanza che era una stanzetta prove a Castel Bolognese mi disse o te odi la mia musica ti sto sui maroni oppure oppure non ti interessa suonare con me io dico ma perché dici così scusa è già la terza audizione che vengo vuol dire che mi interessa cos'è che vuoi da me allora ci siamo capiti voglio che fai le note che la gente capisce senta cosa fai e dopo poi fai tu ah grazie quella cosa mi ha aperto il mondo infatti io mi feci prestare il cd e il lettore cd da inesto carta da musica mi sono trascritto alcuni assoli proprio precisi tipo cosa succede in città al bacchiara ridere di te c'è chi dice no brava giù insomma mi sono scritte un mazzo c'è soltanto sveglio fino alle 6 di mattina infatti avevo distrutto il giorno dopo comunque quando sono arrivato gli ho detto mi serve un leggio un leggio perché il leggio mi serve quando suonai pezzico leggendo le note e facendo vasco esultò e disse ecco ecco hai capito sì così vedi che sei capace vedi che da lì sono entrato nel suo mondo da lì la strada è stata abbastanza chiara perché ci siamo parlati e abbiamo iniziato a fare delle lunghissime prove a Pianoro fuori Bologna e da soli cioè vasco spesso arrivava magari fine settimana o arrivava la sera ogni tanto ma noi io tedeschi Rocchetti che nel frattempo era stato preso in una delle seconde audizioni dove c'era anch'io inesto non c'era ancora l'altra chitarra ritmica e quindi eravamo lì a provare tutto il giorno a fare i pezzi 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 e che a un certo punto è nata l'esigenza di avere un bassista è saltato fuori Martinez e sono stati provati alcuni chitarristi ritmici sia il bolognesi che un tedesco insomma c'è una lunga storia anche lì che poi è sforciata in altro e quindi così è stata la storia la cosa poi è chiaro che anche per chiarire una cosa fondamentale che a volte leggo ho letto delle critiche di miei confronti tipo che io non so stare al mio posto cioè mi sbagliate coloro che pensano questo perché io ho fatto esattamente quello che mi è stato chiesto di fare cioè a me ogni sera mi essidava una responsabilità enorme che forse per questo che nel libro di Modena Park Vasco scrisse è una mia invenzione cioè io non sono una sua invenzione ovviamente però voleva forse dire che mi spronava veramente ogni sera a fare di tutto e di più cioè io dovevo veramente tenere sulla serata quando lì non cantava no? cioè dovevo veramente spronare di brutto la band e suonare in un certo modo ed è quello che ho fatto perché ne avevo le capacità ma anche la personalità perché sai quando sei lì davanti a 30 40.000 persone minimo 20.000 però sempre un picco di 30.000 così comunque devi tenere sulla storia devi tenere sulla scena cioè è una bella responsabilità quindi io l'ho fatta e da lì sono uscito in modo potentissimo perché non c'era mai stato un tour dove la chitarra era stata così presente in quel genere musicale si parla chiaro non parliamo di progressivo di fusion o di altro genere e quindi da lì molta gente si è ricordata di quando mi aveva sentito per dirti a Milano a suonare jazz si era ricordata o so chi mi aveva sentito con la Patti e da lì sono iniziata ad avere tantissime molte richieste che erano anche difficili da gestire perché poi Vasco era molto geloso dei suoi musicisti quindi io per dirti alle prove di Bologna mi chiamò Pani attraverso l'Era dei Bandini con cui avevo suonato da bassista in un trio jazz facevamo parecchie serate e ha detto io ho fatto il tono nome ho detto che suoni benissimo guarda devi venire qui un disco di Mina e io molto candidamente andai da Vasco e ho detto mi ha chiamato Mina per fare un disco tra l'altro non abbiamo le prove e lui ha detto oh te non ci vai e lì allora ho detto e non ci andai cioè io mi sono perso un disco con Mina che era Carter Peer credo dove avrei potuto suonare le chitarre quindi in quel momento lì rimasi un po' male ma non che cioè rimasi male perché non capivo la motivazione capisci di essere cioè non mi sentivo di appartenere ad un'altra persona cioè io sono musicista sono libero suono ti do quello che mi richiedi quando è il momento però quando non ci sono le prove se posso andare anche mangiare un gelato sull'Everest cioè se mi va lo faccio se posso farlo capito cosa voglio dire e quindi si creò subito un po' di tensione poi però mi sono rifatto nel senso che dopo invece ho iniziato a accettare tutte le mie collaborazioni e questo probabilmente ha causato anche dei problemi problemi che comunque poi sono risfociati negli spali sopra nel frattempo io ho fatto il tour con zucchero con bacini ho fatto il tour con Ramazzotti che lo ringrazio sempre perché Ramazzotti lui mi aveva cercato nell'89 dopo Fronte del Parco cioè le ultime date mi ricordo che proprio mi chiamò al mixer e me lo presentarono e voleva che io andassi in più con lui allora adesso non posso perché appena finito il tour di Fronte del Parco probabilmente si parla già di altre date nel 90 e quindi solo nel 91 potrei lo chiamare lo chiamai e gli disse guarda adesso sono disponibile sono successi un po' di casini tra l'altro perché avevo detto di sia uno l'altro cioè sono successi delle robe che hanno compromesso un po' dei rapporti di lavoro mi dispiace lui mi ha subito detto di sì quindi nel frattempo ho fatto quel tour lì nel 92 poi nel 91 ho fatto il mio primo disco dove suonai tutti gli strumenti le riviste iniziavano a scrivere su di me le interviste la cosa bella e divertente è che sulla prima intervista che fece nell'89 proprio durante pronte del palco Vasco stesso disse ah sono ausiato da tutta questa esterofilia noi non ci considerano mai come italiani e poi mi piace perché è proprio l'antistar per l'eccellenza non è il solito chitarrista vestito di pelle ogni riferimento puramente casuale tra l'altro con la rivista originale chi la voressi leggere vorrei che mi invento qualcosa l'Ital Club del giugno 88 no 89 scusa e quindi c'era tutto un clima veramente molto positivo chiaro che poi io facendo altri tour si creano delle situazioni però per me furono esperienze fondamentali che mi portarono all'estero mi portarono a collaborare con altri musicisti e avere altri tipi di esperienze poi nel 93 di nuovo rinacque questa cosa degli spari sopra mi chiamò il manager compianto e amato da noi della band Lolli Maurizio che purtroppo mancò nel 94 e mi disse proprio le testuali parole mi disse vai ci hai fatto godere cioè vogliamo che vieni qui che ne parliamo e così fu io andai a Bologna incontrai Guido Elmi ci fu tutta una una situazione lì in studio ci furono anche qualche sconto mi ricordo perché mi disse di portare anche il basso poi non me lo fece suonare allora io reagì abbastanza male mi hai fatto fare un certo di strada eccetera però da lì poi l'anno dopo c'è stato Cialentano poi insomma sono state tante cose diciamo che comunque l'Ispari Sopra è stato l'ultimo vero tour che ho fatto con Vasco perché da lì insomma ci sono state poi altre incomprensioni di natura proprio di appartenenza sei il mio chitarrista e io ho ritenuto di essere libero come lo ritengo anche ora cioè voglio dire io sono una persona libera e non voglio avere questo tipo di legame così forzato infatti dico la verità mi scrivono un giorno sì un giorno no ma suoneresti ancora con Vasco io suonerei con chiunque cioè non è un problema suonare con un'altra persona con cui ho diviso poi un momento così importante però deve venire da lui o dal musicista che mi chiama e mi dice voglio rifare delle cose non è che io posso inventare di chiamare di richiamami a sore con te non credo che funzioni così soprattutto dopo tutto quello che ho fatto e quello che c'è stato quindi io non ho problemi con nessuno anche con persone che possa aver avuto degli scontri a livello parliamo di livello professionale ovviamente però molto tranquillo relax per me quello che conta è la musica è salire su un palco e fare bene bene quello che devi fare quello è fondamentale però fermami io vado avanti no no figurati ti giro qualche domanda anche se sono in modalità anche se sono in modalità telefonino sì sì e te ne giro qualcuna interessante allora Davi chiede come è stata qualche aneddoto con Carl Palmer vi ho visto il corallo di Scandiano non mi ha voluto neanche dare una bacchetta sì sì allora ti dirò subito per me Carl Palmer quando sono la batteria era veramente un punto di riferimento perché ascoltavo Tarkus Trilogy è proprio il disco Emerson Lake Palmer dove fa quella solo mostroce a un rulla uno che è una roba mostroce l'aveva anche in età più avanzata quando abbiamo suonato è un tipo molto professionale estremamente serio puntuale è l'opposto della rock star come uno si immagina cioè lui alle sette di mattina giova per colazione infatti ci vedevamo sempre anche la mattina perché andava a camminare andava a correre cioè c'era un clima molto professional e anche sul palco però aveva chiaramente il suo mood il modo di suonare quel gruppo lì che non è stato fondato da me è stata un'idea di un manager chiamò T.M. Stevens a basso Carl Palmer nella batteria e io con lui e la cosa strana è che io con T.M. mi intesi subito perché avevo già suonato con bassisti funky bassisti neri jazz black music cioè ci siamo trovati subito lui ha iniziato e io subito cioè è stata una roba proprio come se ci conoscessimo da sempre e vedi lì James Brown Miles Herbie Hancock cioè è tutto collegato capisci è tutto è tutto un legame che è proprio lì nell'aria basta che ce l'hai dentro e cogli subito quella cosa Palmer invece si sentiva a disagio sui pezzi funky di T.M. e sui pezzi miei perché io gli ho portato dei pezzi tipo Energy Life dove ho suonato io la batteria ed è un pezzo incasinato perché io pochi batteristi me l'ha suonata così forse l'unico batterista che se l'hai tirata giù precisa quel brano lì è stato Stefano Pisetta che è stato un altro batterista che allora era veramente un bambino io quando andavo da suo padre a ascoltare i dischi c'aveva otto anni e già vedevo che era molto portato e poi ha studiato musica lo chiamai nel disco di Mina a fare Mina in studio come percussionista e poi è uscito fuori anche alla grande come batterista lui la suonò proprio bene e quindi Palmer non suonava i brani come io cercavo di suonare i suoi no? e quindi c'era la sensazione era molto cioè era un concerto degli Emerson, Like e Palmer senza gli altri due cioè noi cercavamo veramente di entrare nel mood e non era facile perché lui era abituato comunque alle note precise di Emerson che c'era l'improvvisazione però c'erano certe cose che dovevano essere quelle e quando non è successo si incavolava anche molto l'episodio della bacchetta non lo so so che ci sono stati gli episodi che ha fermato il concerto perché uno fotografava proprio si è alzato dalla batteria no photo you understand no photo ma durissimo mentre non eravamo no photo you understand ma si è alzato tutta la batteria capite l'ho detto adesso lo metto e quindi è successo però ho capito anche che a volte per dirgli mi è capitata un'altra esperienza con un chitarrista di Bozzano che se mi vede se lo ricorderà eravamo a sentire era la prima volta che io sentivo John McLaughlin dal vivo a Bologna che c'era il music day il music of non so era music c'era anche storia di automobili di corse però facevano i concerti c'è stato Friends Up era l'82 mi pare l'82 sì e c'erano i police però c'era una sera che c'era appunto John McLaughlin con Tommy Campbell il giovanissimo bravissimo mi colbì molto Tommy Campbell che suonava tutto alzato c'aveva i piatti che erano cioè suonava tutto come se stesse in piedi infatti ci sono quei dischi come Bella Horizonte Music Spoken Here che mi piacciono tantissimo e uno faceva foto alle prove cioè io ero lì silenziosissimo seduto che mi guardavo John McLaughlin da cosa ti posso dire da 20 metri quindi vedevo proprio lui come parlava alla band sentivo anche cosa dicevano sto qua no photo please ok stop come on cioè ci siamo andato fuori perché la gente fotografava senza chiedere il permesso questa è una cosa che per anni aveva una una sua funzionalità adesso con i telefonini è un casino però insomma non si preteva vedere la foto ecco ma perché io ti ho detto questo eh come risponde la palmer comunque sta di fatto che è un grandissimo professionista uno che ha saputo amministrare secondo me benissimo l'eredità e tutto quello che riguarda gli Emerson e che palmer sicuramente meglio dei suoci e ne ha fatto una situazione che lui ancora è uno che nel mondo va a suonare la musica degli Emerson e che palmer e va in tutto il pianeta insomma con un'energia notevole per l'età che ha perché comunque è uno che fa molta pratica in palestra cioè uno che si tiene in fuoco quindi da questo punto di vista molto rispetto Giovanni ha già fatto diverse volte questa domanda ti chiede qual è il tuo batterista preferito se ce ne hai uno proprio magari ce ne avrai uno per ogni stile musicale immagino e poi qualcuno chiedeva anche di come è stato suonare con Castronovo tu ci hai suonato in un periodo con Vasco no no io con Castronovo ho fatto una jam session però ho fatto una bella jam session ah ok quindi ho sentito come suonava allora rispondendo alla domanda dei batteristi preferiti beh sicuramente se andiamo nel passato devo citarne almeno due categorie nel jazz sicuramente ho amato tantissimo vabbè Buddy Rich sicuramente e Max Ross di quella generazione poi vabbè Tony Williams e anche Lenny Wilde mi piacciono tantissimo dei batteristi rock io non sono cioè mi piacciono molto i Le Zeppelin però sono più in di parpoliano quindi Young Pace per il mio gusto per il modo è molto un Buddy Richiano no cioè lui suona molto un impostazione di Buddy Rich e si vede benissimo in tutte le rullate le cose che fa come batterista il mio preferito ho amato veramente molto Steve Gade infatti quando ho ripreso a studiare la batteria che ormai era un po' di anni che non la suonavo per fare il mio primo disco mi ricordo che mi scoppiai tantissimo dei suoi dischi con Cicorea il grande Cicorea che ci ha lasciato da poco quindi dischi come Friends Tri Quartet anche altri dischi più My Spanish My Spanish Heart con i dischi lì dove veramente Gade è al massimo della sua cioè è proprio dentro la musica ecco mi piacciono molto i batteristi dentro la musica poi chiaro non si può non nominare con l'aiuta in noi in Italia dei grandissimi batteristi come Tullio De Piscopo che è stato sicuramente un grandissimo musicista di grande versatilità insomma una Iena per i suoi tempi con cui tu hai suonato con cui tu hai lavorato o anche suonato che hai fatto un Sanremo sì io praticamente beh feci una cosa fantastico con lui perché avrei dovuto suonare con lui però poi il fato ha voluto che io suonassi è fantastico con il dipote come concorrente no tu eri molto piccolo non so se forse non eri neanche nato comunque ero 86 adesso non so fare i conti ero piccolino piccolino c'era sai chi c'è stasera di scena c'era un amico in più ecco io ero uno di quelli che naturalmente essendo alto me ne stavo bello indietro nascosto perché non volevo essere visto cioè non è che mi vergognavo però ha capito era una cosa strana per me che suonava andare lì a fare il balletto tutti i vestiti no e alla fine uscivamo e facevamo un pezzo di l'episcopo che faceva mi ricordo faceva così e lì molti mi notarono ma chi è quel tipo lì che suona con una semiacustica l'Uni Banez FG100 tipo il modello di Padmettini adesso però era una chitarra più economica che suonava molto bene e da lì poi Tullio chiaramente mi ha detto un giorno devi suonare con me così poi io ho avuto la situazione della Patti Vaccini Vasco che mi ha portato comunque su un'altra situazione di altro genere musicale così ci siamo rincontrati nel 92 fine 92 e 93 per fare Cosmopolitana dove io suonai anche il basso in un brano mi ricordo e lì nacque l'idea ma tu vorresti a Sanremo e dico eh sì perché no e a Sanremo suonavamo io e Carl Potter dal vivo cioè lui con gas percussione e io chitarra dal vivo poi ero bardato come mi ero vestito poi negli spari sopra quindi c'erano collane cose sto spolverone la bandana cioè era una cosa strana e l'orchestra dentro che suonava e abbiamo fatto qui gatta cicova è stato molto bello perché abbiamo suonato comunque dal vivo cioè io la chitarra quando facevo i suoi se senti anche la registrazione si sentono gli interventi le cose le percussioni di Carl Potter e quella fu l'esperienza poi ci siamo persi di vista perché io nel 93 lo rincontrai proprio nell'albergo dove eravamo a mangiare a dormire prima di andare a fare le prove degli spari sopra alla porta meccanica di Milano alla fiera porta meccanica quindi eravamo già col palco enorme montato già tutto pronto cioè le prove generali diciamo mi stavo facendo sto suonando con basso e quindi ci siamo persi un po' di vista anche se mi sarebbe sempre piaciuto fare un disco con lui di jazz proprio inteso come jazz non troppo tradizionale però chi lo sa magari un giorno ci ribeccheremo da qualche parte ecco speriamo e ci sono altri eh sì è vero che dei pesci sì mi ricordo poi ci sono altri batteristi molto bravi in Italia ho lavorato un po' con tutti da Dolino a Melotti dei Lazzaretti per nominare diciamo Bandini per nominare quelli diciamo della generazione insomma storica diciamo e poi tutti quelli che ho nominato prima tra l'altro per esempio con Francesco Corvino che abbiamo diviso moltissimi concerti del mio progetto Endris ma anche un progetto che si chiamava Rock Symphony a Palermo con l'orchestra sinfonica e facciamo un paio di concerti con un'esperienza molto bella e ci siamo risentiti di recente e c'è nata l'idea di fare un progetto molto interessante che sarebbe ve lo dico in poche parole perché ci stiamo lavorando molto è un progetto che praticamente racchiude la mia carriera a livello non solo pop e quindi non solo pop rock o quella italica ma anche altre collaborazioni straniere e cercando di avere gli ospiti anche originali nei brani quindi ci sarà una ricerca di quale cantante vorrà cantare dei brani io so già chi mi dirà di sì e chi mi dirà di no però ci si prova e arrangiati in modo diverso quindi una carrellata che va da Bacini Patti Pravo Mina Vasco Branduardi Lauzi Ramazzotti Pausini Paolatucci cioè tutti quelli che io ho collaborato stiamo facendo una selezione perché mi piacerebbe molto fare un progetto che però sia una cosa di ampio respiro cioè una cosa veramente che è riarrangiata esprima un po' tutto il mio percorso sia quello più popolare che anche perché c'è anche un brano di Marcus Miller che stiamo valutando di inserirlo nel pezzo dove io suonare le chitarre il pezzo è Blast e quindi sarebbe una cosa molto interessante quindi ecco dei nuovi talenti insomma ci sono dei batteristi appunto di generazione più recente che meritano ci sono un sacco di domande dei chitarristi ma queste non te le giro perché magari qualche una le lascio quando fai le interviste con il canale di chitarristi ne vuoi qualcuna? allora ce n'era una che un po' una mezza risposta l'hai data ed era quella se avevi libertà un po' nei fari soli con Vasco un po' l'hai detto fino a che punto la vado a cercare eccola qua dice Marco se tu hai solo leggendario sui fronte del palco tipo liberi liberi sono stati studiati seguendo le richieste di Vasco o hai avuto carta libera? ecco rispondo molto volentieri a questa domanda perché c'è molta confusione soprattutto per chi ha vissuto la cosa dopo che magari ha visto il video o non ha vissuto i concerti dal vivo che non l'ha potuti vedere non si può rendere conto realmente di cosa succedeva allora le uniche note che io ho suonato esattamente come il disco sono le prime note della solo giusto? cioè le prime note che facevano riconoscere il pezzo alla gente che era poi il discorso che era partito all'inizio ma poi io ho messo sempre farina del mio sacco non ho mai scritto una solo su carta quindi tutto quello che ho suonato ed è stato scelto in fronte del palco era frutto della serata è chiaro che c'avevo delle parti obbligate che ogni sera erano quelle però poi c'era il mio che è quello che per esempio si sente in liberi liberi quello che si sente in ciechi dice no non è certo la solo originale come è stato concepito nel disco stupendo assolutamente anche lì dal vivo partivo e andavo per le strade che volevo andare insomma quindi ho avuto la libertà ma soprattutto ho gestito io quella parte lì perché era quella che emozionalmente poi arrivava anche alla gente perché tante volte si fa confusione tra una cosa popolare e l'energia sono due cose diverse cioè una cosa può piacere a un milione di persone perché la capisce ma c'è un'altra cosa che può piacere sempre a un milione di persone faccio un esempio senza capire cosa sta sentendo ma gli arriva a pelle ecco io sono un tipo di musicista così sono un epidermico cioè se suono dal vivo spesso ricevo complimenti più da persone che non suonano che non magari direttamente da musicisti cioè arriva veramente adesso uno di recente mi ha scritto io sono un piastrellista e mi piace molto come suoni perché probabilmente un giorno ho detto che un piastrellista mi ha fatto i complimenti o una parrucchiera per dire una categoria non legata alla musica però l'importante è arrivare a trasmettere dell'emozione e questo non è tecnica sound è tutto insieme è tutto quello che tu trasmetti è una cosa che hai tu dentro ecco perché per esempio quando c'è stata per fare un esempio sui batteristi quando c'è stata la 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 Buddy Rich Day che c'è Steve Gadd in mezzo vini con l'aiuto sulla sinistra e dei Waker cioè quando suona Steve Gadd veramente fa molto meno degli altri due no? o anche fa delle cose anche notevoli però le fa in un modo talmente suo personale che la gente va fuori di testa perché la fa smuovere ecco io quando facevo gli assoli il fatto della tecnica non ci pensavo io pensavo al sound alla massa di suono che deve arrivare e ti assicuro che quando suoni mi dispiace che molti ragazzi della nuova generazione non so se potranno mai provare una sensazione del genere ma suonare su un palco davanti a 50.000 persone 80.000 persone a Modena Park ce n'erano 225.000 però quello per me non è stato il tour cioè il tour era un'altra cosa e hai 5.000-6.000 watt sul palco di side e la chitarra la senti uscire da 200.000 watt di impianto cioè è una sensazione veramente fisica di notevole anche sofferenza perché a volte ti arrivano i suoni che è come se ti trafiggessi una spada cioè una roba dolorosissima soprattutto se ti arriva all'altezza dell'orecchio però ti senti le vibrazioni nelle ossa e quando fai una nota cioè ti sembra di essere parte del suono è una cosa difficile da spiegare però lì devi reggere la storia perché se no ti sgretoli cioè è veramente fisicamente impegnativo ecco quindi avevo molta libertà ma anche con gli altri perché anche quando mi hai chiamato la Mazzotti o la Tausini certo facevo le prime notte solo però poi ci mettevo il mio è sempre stata la mia caratteristica e forse è stato uno dei motivi per cui ho cercato poi di andare più per altre strade perché non c'era più questa libertà esecutiva si cercava la solo come il disco e secondo me dal vivo da solo come il disco è troppo riduttiva come concezione è molto la musica classica cioè ascolti sempre lo stesso brano suonato lo stesso modo per me il rock il blues il jazz e i funky sono proprio un'altra cosa cioè è bello mettere qualcosa di nuovo del resto quando vai a sentire Eddie Purple hai mai sentito Richie Blackburn suonare la stessa cosa uguale? mai gli ACDC gli senti mai suonare la stessa cosa? fanno tre note e poi tanti saluti ma ma mai suonato come nel disco cioè io li ho visti tante volte e ti assicuro che non c'era mai una solo uguale perché è la bellezza di quella musica e gli assoli per me sono questo che sia pop che sia rock poi se devi fare lo fai però dopo me la suonare anche me dopo devo tradurre per i non bolognesi senti ti giro di Raffaele che insomma visto che hai parlato di quel mega insomma lavoro con Vasco se ci racconti anche il live al Cremlino con la batteria le melodiche spaziale anche quel live penso che sia un momento vabbè ma guarda che tu li hai citati un po' tutti gli artisti top italiani con cui hai lavorato adesso noi non per tornare sempre dietro nel tempo però chiaramente quei dischi quelle videocassette no sai sono veramente molto te l'avranno chiesto un miliardo di volte ma com'è stato e soprattutto poi ti chiedo ma quindi Vasco non l'ha presa bene che sei andato con Zucchero no non l'ha presa male non l'ha presa malissima però ecco una cosa che ci tengo a dire e che vedo in quello di essere stato un pioniere che adesso purtroppo ho notato che anche tra i giovani c'è una sorta di razzismo verso il diverso è una cosa molto pesa quella che sto dicendo ma è molto vera nel senso io ho sempre pagato il prezzo della mia diversità da un punto di vista anche della personalità cioè per esempio io sono con le dita perché da piccolo mi sono tagliato mezza falange quindi ho questa radice no con cui alterno l'indice il pollice il medio e così e quindi era una cosa comunque diversa dagli altri miei amici no però sul palco venivo visto veramente come un alieno perché non si era vista una persona fare delle robe così con quel tipo di libertà no cioè sembrava un alieno che ha detto adesso suono così e faccio le cose io e questo ha creato veramente delle situazioni che rimanevano stupiti i cantanti io mi ricordo le prime espressioni di Divasco dei primi concerti o anche Zuccaro che erano molto stupiti di questa libertà però non ti vedo più nello schermo cosa è successo? magari gli altri mi vedono sì continuo rispondo vabbè l'esperienza con Zuccaro fu molto interessante perché furono dei club generalmente da 1500 posti 2000 posti 1000 cioè posti così molto più concentrati dei bellissimi io non mi sono fermato e ho continuato vai 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 tu sei sempre in onda perfetto praticamente abbiamo cioè si facevano dei locali molto belli storici dove si suonava non so molto blues concerti diciamo di dimensioni su 1500 2000 persone e mi piacque molto il fatto che nella band erano musicisti di colore quindi per me che avevo già vissuto quell'esperienza a New York il bassista di colore la corista di colore il sassofonista di colore cioè era molto bello questa fusione tra di noi anche di energetica il funk il rock mi piaceva molto e l'Elle doveva pestare di brutto in quella situazione perché Paolo Johnson aveva un volume di basso che era stratosferico cioè veramente suonava dei volumi che mi è venuto in mente poi Gallo in un'altra tour dell'Ispare sopra comunque suonavano belli tosti io ci davo dentro quindi l'Elle doveva pestare molto perché ci sono dei pezzi come un overdose d'amore e devi pestare di brutto e quindi lo vedevo molto impegnato però è stato un bellissimo tour tra l'altro con l'Elle eravamo veramente molto amici anche in tour parlavamo molto insomma abbiamo condiviso dei bellissimi momenti anche tipo quando eravamo a Londra siamo andati a farci un giro a vedere determinati posti storici c'era anche questo tipo di amicizia che parlavamo moltissimo anche delle cose lui mi ha difeso molto perché ero uno che per esempio quando c'erano i party diceva ascolta al party ci vado se voglio io vado a sentire cosa ne so quel gestista Ronnie Scott e andavo tac no? oppure eravamo in Belgio andavo a fare una jump session e questo non era ben visto perché tutti dovevano andare al party che la Amy aveva deciso e l'Elle so che mi ha difeso più di una volta e diceva è braio il carattere non è venuto perché? perché non è qui con noi vedi fa l'antisociale e lui ha detto ascolta sarà a fare i suoi se dopo il concerto decide di fare della sua vita quello vuole capito? c'era una situazione così però la situazione con ho sentito un suono strano alieno eri tu? no ero io ero io mi sto spostando perché cerco la linea ovunque questa sera è un film dell'orrore ragazzi lo so ma com'è? andiamo avanti e niente allora è successo questo che il tour invece a Mosca fu una cosa molto particolare perché allora innanzitutto suonare dentro al cremino era una roba stranissima nessuno ci aveva messo mai piede che non fosse della milizia russa o comunque della divisione politica russa infatti noi entriamo e subito da curiosi io e forse Luciano Luisi anche con lei andiamo a vedere c'era una stanzona di vetro massiccio con tutta una serie di libri di registri con sopra un bel sulla serratura c'era un bel blocco di piombo tipo una catena infatti ho detto ma cosa ci sarà lì? dopo un secondo è arrivato un russo alto tipo due metri e mezzo mi ha fatto no ci ha fatto capire che se andavamo avanti ci spiezzava in due davvero perché era un armadio veramente io sembravo piccolino che non sono proprio piccolino e quindi le prove lì dentro l'atmosfera fu pazzesca però è successo un fatto molto strano che non ho mai raccontato molto grave che pensavo che fosse giunta la mia ora mi feco i maroni scusate ma dato che si si faceva pratica a trovare l'acqua cioè si beveva l'acqua era veramente una merce preziosa e da mangiare non era proprio il massimo a Mosca cioè si mangiavano caviale 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 ogni tanto arrivava una folla di salata però c'era poca roba comunque sta di fatto che la mattina del concerto è quello che hanno mandato in Mondovisione quindi la sera prima avevamo già fatto un concerto per i russi e i figli della milizia russa infatti nessuno poteva entrare il giorno dopo il concerto che hanno mandato in Mondovisione nella notte di quel concerto lì io a un certo punto ho iniziato a girarmi la testa ma una roba bruttissima cioè proprio si faceva cioè una roba che ho detto è la fine non si può più stare in piedi insomma ho chiamato giù nella uole ho detto guardate che io sto male ho spiegato attraverso tra l'inglese e anche il manager che c'era di Zucco e a un certo punto sono arrivate su due infermiere russe che erano alte 1,90 ciascuna per 120 kg di peso e mi hanno detto no 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 problema no problema cioè così mi hanno fatto bere 80 bicchiere di acqua tipo una lavanda gastrica casalinga e poi mi hanno fatto un'iniezione io il giorno dopo era come se non mi fosse successo niente sono riuscito a salire sul palco ed è stato veramente un miracolo perché io veramente pensavo mi avesse avvelenato cioè ho pensato che qualcuno mi avesse avvelenato o qualcosa veramente mi avesse mandato perché è stato un miracolo e il concerto è stato quello che la maggior parte di gente poi ha visto in televisione è stata un'esperienza molto bella in una pausa che non si vede forse nel concerto a un certo punto sono salite delle ragazze lusse bellissime e a ognuno di noi ci hanno dato un fiore e un bacio io ho detto cosa è successo qua vedi una bionda che arriva ti dà una rosa in mano ti dà un bacio e mi ha dato anche un cappello della milizia ecco perché poi al concerto avevo il cappello da militare che ero vestito tipo da milizia russa quindi è stata una bellissima esperienza ma anche lì tutto in diretta cioè non era neanche stato deciso di fare un disco da quella cosa è stata una cosa che grazie a Maurizio Maggi bravissimo fonico di Modena che ha mixato veramente bene il live su due tracce si è deciso di fare il disco da cui è uscito il Ligert Kremlin quindi questa è stata l'esperienza e con l'Ele mi sono divertito anche se c'è stato un momento di panico perché sono una consapevole di video mi pare io sono saltato sulla batteria dato che non sono proprio piccolo mi ricordo che il palco con la Yamaha ha fatto così anche lui rideva però insomma c'è stato un momento di panico adesso si ribalta la batteria ecco io sopra con l'Ele e io ci ribaltiamo però fu un'esperienza bellissima pre nirvana vedi facevate già il grunge prima ancora che arrivassi stavano arrivando hai capito sì sì ho il momento di saltare volevo vedendo Banalen che saltavano nel rock insomma c'era molto questa cosa ho detto su una solo finale così di esplosione lo faccio quella sera tuttavia ci sono state cose strane tipo per esempio nelle prove arriva questo Yuri Gasparian sto chitarrista di San Pietroburgo che allora era a Leningrado credo arriva lui deve suonare la situazione è stata questa arriva io devo suonare ho detto perché deve suonare è perché è un personaggio di spicco della musica politica contro il regime cioè era uno di quelli lì quindi voleva dare quel tipo di esempio non aveva la chitarra non aveva l'ampli allora fa cos'è l'ho prestato io una chitarra che era una PB tutta puzzle era la PB Adrian Vanderbilt chitarra che suonava con i White Snake tutta cosa che poi regalai a Ramazzotti tutta fatta a puzzle appunto nero e bianco e l'amplificatore gli prestarono un'ADA un'ADA un pre-ADA che andava molto in quel periodo io avevo i miei ampli pivi a valvole tutto dietro cioè avevo dietro di me l'ampli 4 coni altri due ampli per i suoni puliti cioè ero attrezzato bene e a un certo punto sulla sala consapevole le parte costa solo che non si capisce se è un suono un suono stranissimo quando era in un momento ha detto adesso Russo a te me pos me te no perché hai voluto fare un suono che si sentiva cioè non era un assolo era un lamento ho detto adesso che è il mio momento perché era mio quello assolo tutto da inizio alla fine ah ti massacro e sono andato su pesantissimo lì ho saltato sulla batteria chitarra per terra con i piedi sopra la blackboard ho fatto di ogni e la cosa bella è che quando suonammo il Mage che la cantò Randy Crawford mi fece un sacco di complimenti e io l'avevo sentita nel famoso concerto Casino Light insieme a Yellow Jacket quindi c'era Ricky Lawson Marcus Miller Robin Ford mi ha fatto molto piacere i suoi complimenti proprio mi abbracciò così poi c'è stata Tony Child su River of the Cross insomma è stata una bellissima esperienza che doveva continuare poi però poi sono successi altri fattori per cui un anno dopo appunto ero con la Mazzotti poi andai di nuovo con Vasco e da lì sono partite tante altre situazioni e tu comunque se sono altre domande sulla batteria mi fa molto piacere guarda intanto io sono verso la chiusura Andrea perché di solito faccio un'oretta dieci un'oretta un quarto ma non posso non farti la domanda che ho fatto tutti i batteristi in coda perché anche se tu sei come abbiamo detto sei un musicista sei un artista che suona la chitarra suona il basso suona la batteria forse anche qualcos'altro però magari un rullante preferito tu ce l'hai allora ti faccio questa domanda domani ti ingaggiano per fare il disco un disco il disco più importante che farai come batterista però ma puoi usare lo stesso rullante in tutto il disco cosa usi? beh non ho dubbi io sono sempre stato un amante del Ludwig Supraphonic 5x14 anche a te anche a te perché il 6x14 è troppo cioè molto rock ma il 5x14 ho anche un Black Beauty 5x14 non quello tutto lavorato è solo il Black Beauty e è un rullante molto versatile perché se metti la cordiera poco è sensibilissimo se la tiri cioè è un rullante veramente che ci puoi fare tutto poi ho il seconda scelta che è invece un Ludwig sempre della batteria downbeat che è praticamente il Buddy Rich 4x14 che è un rullantino che è accordato c'è quella pacca proprio c'è quella pacca funky alla Steve Jordan molto molto bello però come primo rullante io sceglierei quello senza dubbio e invece la chitarra visto che ti chiede anche la chitarra puoi fare tutto il disco con la stessa chitarra elettrica direi ma guardi io sono stato uno strato casterista t'ho fregato t'ho fregato t'ho fregato sì no sono stato uno strato casterista per fai conto dalle prime imitazioni Fender fin quando ho suonato la strato caster fino ai 25-26 anni era quasi la mia unica chitarra con qualche strizzavo l'occhio ogni tanto qualche Gibson SG come questa con cui ho fatto il disco di rap per esempio sogni tutto quello che c'è lo feci con un SG uguale a questa poi sono stato molti anni endorser di chitarra artigianale tra cui Frudua Manne con vari lutei ho avuto varie varie collaborazioni con lutei diversi molto valenti poi sono andato dieci anni con la Paul Smith che devo dire la verità ogni tanto me ne suono qualche d'una e sono delle chitarre incredibili però da un lato volevo ritornare anche alla tradizione quindi se dovessi dire un'unica chitarra io ti direi o un SG o una Les Paul e sarei a posto chiaro che però su certe sonorità dovrei avere anche una statocaster cioè ci sono dei suoni fondamentali che capisci per dirti ci sono delle batterie adesso che sono molto meglio delle batterie di una volta io soffrivo molto quando la meccanica del tom si spannava il piatto che non si avvitava più ne soffrivo quindi i giapponesi hanno dato una svolta incredibile alle meccaniche però ogni tanto mi è capitato di suonare qualche greci degli anni 60 e c'è hanno un suono che è una cosa pazzesca non sono un vintagista però con le chitarre certi strumenti cioè io posso andare in studio e fare tutto con questa chitarra posso fare jazz funky però ha un suono bello importante perché ha degli unbucking se uno mi chiede di fare la ritmichina di mezzo tipica o il suonino stoppato quello è by Fender non c'è storia quindi dovrei portarmene due però se devo portarne una Gibson Espoor o questa per ora per ora però non me ne hai detta una me ne hai detta sempre sempre una e mezzo ok Gibson Les Paul standard ole vai ce l'abbiamo invece io dico sempre che il rullante il Supra no perché molti hanno citato Supra e Black Beauty fondamentalmente direi 60-70% insomma o comunque rullanti affini magari chi lo usa Yamaha chi lo usa ma sempre un po' con quelle caratteristiche perché sono un po' dei rullanti io dico sempre che sono come le Fender le Gibson la Telecast hanno quel suono così caratteristico che ti porti quello cioè la storia della batteria Rock gli anni 60-70 sono quasi di Ludwig Supraphonic fondamentalmente se vuoi fare quel suono lì ti vai a prendere quel rullante lì mi sembra logico se tu ci fai caso tutti i dischi di Steve Gade fin quando la Yamaha non gli ha imposto di rullare il rullante Yamaha fatto come un Supraphonic in tutti i video che io ho anche quelli session che fa lezione c'ha il Ludwig Supraphonic 5x14 cromato e il resto è la batteria Yamaha piatti ziglian eccetera però tutti i rullanti che sono venuti dopo sono comunque fatti su quello stile lì e quindi è chiaro che tutta la musica degli anni 70 senti non so il chips la colonna sonora il baretta tutte ste robe americane a part fix le colonna cioè il rullante quello lì è un Ludwig non c'è storia perché anche la Grecia lo faceva uno simile di legno la Rogers però alla fine il Black Beauty e il Supraphonic e il Supersensity che invece sono usabili di Koba sono due rullanti molto importanti chiaro che la tecnologia ha fatto dei passi avanti e i giapponesi hanno fatto delle cose veramente di altissimo livello facendo anche migliorandole perché le meccaniche giapponesi nella batteria non c'è storia cioè tanto di cappello infatti Gade secondo me quando è uscita con il modello Steve Gade del modello lì 9000 credo no quella nera che ha sempre avuto era bellissimo io la vedi dalle remelotti proprio nel tour prima in studio con Baccini quando facciamo Carton se poi nel tournée con Zucchero vedi questa Yamaha con tutte queste meccaniche tutto perfetto ho detto che meraviglia cioè ti metti il Tom lì quell'altro te lo metti là il timpano lo inclini così in rullante cioè era un sogno che io con la mia batteria mi ricordo con le meccaniche era un casino perché ogni tanto si spannava il timpano veniva giù la rullante cioè problemi tipici quindi le chitarre non sono un vintaggista ma credo che la personalità di certi strumenti valga per tutto come per il basso tu puoi prendere tutti i bassi che vuoi però se mi dovessi dire hai un solo basso a disposizione la celta sarebbe sicuramente il precision con il precision fai tutto e hai un suono che è come la Nutella cioè è inimitabile poi puoi fare un basso che sembra il precision ragazzi ce ne ha detto tre ci ha detto rullante chitarre basso quindi ne ho portate a casa tre di risposte ragazzi quindi applauso triplo per Andrea Vraid stasera si considera che l'ho detto che ho provato migliaia di strumenti perché l'ho provato tutti i bassi da 10.000 euro da 20.000 dollari ho provato dei fodera costosissimi però alla fine quando attacchi il precision ti fai cioè è il precision cioè ti si apre il sole cioè vedi la luce ecco scusa mi ha tolte rotto stai dicendo qualcosa ma mi viene entusiasmo no no sto leggendo sempre adesso si sono no adesso si sono scatenati i gittarristi che ti chiedono tutti i dettagli tecnici sulle chitarre e quindi però ti faccio l'ultimo l'ultimo perché questa te la voglio fare perché so che te la voglio fare perché so che è una domanda che ti illuminerà e te la mostro Luca ti chiede cosa ne pensi di Frank Zappa beh Luca Gwen ma l'hai ancora citato in questo intervento ciao intanto Luca che non ti sento da molto tempo mi fa piacere ma allora Frank Zappa è una delle mie più grandi influenze musicali è molto poco considerato dai chitarristi perché lo vedono come il direttore compositore ma io in realtà ho studiato moltissimo il suo stile e vi farò un esempio perché ci pensavo proprio oggi vi farò un esempio del suo stile poliritmico cioè lui non suonava come suonerebbe un chitarrista qualsiasi una frase a tempo dandogli lui suonava molto contro la batteria vi faccio un esempio subito mettendo anche l'uawa sentite che bel fischio eccoci qua un esempio zappiano un esempio un esempio un esempio Quindi ho ascoltato moltissimo come chitarrista, soprattutto nel live in New York, in Shanky Abutti, questi album qua, Waka Javaka, Apostrofe, Over Night Sensation, quei dischi lì mi hanno proprio influenzato molto. Chiaro che non è il chitarrismo che è paragonabile a un altro chitarrismo, Zappa è veramente personalissimo nell'approccio e a me piace molto, me l'hanno detto solo due persone dal vivo, non riesco a capire ma tu c'hai un'influenza che mi ricorda qualcosa. Alla fine si è pensato, ho capito, Frank Zappa, hai ragione, quelle cose lì che faccio generalmente, quelli di lui che vengono molto dall'ascolto anche armonicamente sulla scala esatonale, quindi anche dalla musica classica da cui Zappa proveniva. Ma che spettacolo, guarda, bisognerebbe farne due, tre, quattro di queste live per fare un discorso completo, chiaramente. Io mi fermo qui perché hai superato anche Daniele Tedeschi, hai superato Daniele Tedeschi che era stato, chissà che chiacchierate vi facevate, cioè voi facevate dodici ore di viaggio, arrivate... Eh no, eh no, eh no, vedi, vedi, ecco, la cosa che rispondo per chiudere con la domanda che mi hai fatto all'inizio, la disciplina, allora io sono sempre stato come un samurai, lo sono ancora adesso, ed è la mia salvezza, ma non solo nella musica, per esempio l'attività fisica, io mi sono, cioè ho sempre fatto diete fai da te, ho sempre sbagliato perché dimagrivo 20 e poi ne perdevo 25, sai quelle cose no? Allora a un certo punto mi sono deciso, consiglio anche di mia moglie di andare da un nutrizionista, una persona seria, mi ha insegnato come si mangia o comunque capire l'approccio giusto col cibo, però mi ha insegnato anche cosa è importante come attività fisica, quindi ogni giorno camminare, yoga, ginnastica, addominali, pesi, un po' di pesi, no? E la chitarra è uguale, cioè la disciplina è una cosa che ti salva sempre, io per esempio nei tour, quando molte volte in Pullman, nei tour grossi la gente si guarda i film, chi gioca a carte, chi gioca a giochini elettronici, chi mangia, io mi mettevo lì, suonavo, mi passava benissimo perché intanto mi isolavo nel mio mondo, vivevo dentro la musica, quando scendevo dal Pullman, ragazzi fra mezz'ora c'è il soundcheck, pronti e via, quindi non facevo lunghe chiacchierate sui Pullman e le evitavo volentieri, anche perché per me a volte non lo, cioè dopo che hai fatto un concerto davanti a 30.000 persone e hai dato molto, magari io di carattere il giorno dopo tendevo a starmi per i fatti miei perché volevo ricaricarmi, volevo pensare all'energia che avrei dovuto riavere il giorno, e l'unica cosa che mi dava l'energia, a parte un buon panino imbottito, che anche quello ci voleva, era suonare, cioè sempre, io lo faccio sempre, lo faccio ancora adesso, sempre, in treno, mi sono organizzato, mi prendo un posto preciso, quando non c'era questa storia che non si può andare in giro, c'è tutta la faccenda, il mio posto preciso suonavo, nessuno mi ha mai detto niente, perché il suono della chitarra spento è questo, quindi quando il treno va è un umore fattivo, in macchina, in aereo sono riuscito a suonare, una volta un volo a New York, Chicago, cioè scusa New York, Chicago-Milano, ho chiesto al vostro, ma posso suonare? Fa sì, se non dai fastidio, guarda, mi metto in quel posto lì, sono riuscito, la mia massima è stata Milano, Los Angeles, no, scusa, Zurigo, Los Angeles, ho suonato nove ore, infatti erano preoccupate le hostess, perché mi hanno detto, ma non mangi, non bevi, ma non ti preoccupare, quando finisci di suonare, mangio, infatti appena ho messo sulla chitarra, ho detto, la Swiss Ale, cioccolata, mi sono fatto portare tipo una tonnellata di cioccolata, quando sono senso a Los Angeles ero così, perché capito, mi ero ripreso gli zuccheri che avevo bruciato a suonare nove ore di fila, mentre guardavo film dell'Uomo Ragno, la cosa, perché passavano in silenzio, però io via zappa, weathery port, banale, cioè non mi fermavo mai, quindi lo studio è proprio una disciplina che va oltre il fatto di, cioè capisco quando dicono che non avrei bisogno di studiare, perché per molti, molti si accontentano, capisci, io non mi accontento di quello che faccio, io voglio dare sempre di più, e questo non ha fine, non c'è stop, è una scelta di molto. Mamma mia, fantastico ragazzi, grande, grande ispirazione questa, è difficile trovarla, è difficile trovarla, però devo dire che, insomma, io me ne vado felice, come sempre, ispirato sempre di più dai grandi musicisti, da un musicista veramente top, proprio assoluto, poi sei simpaticissimo Andrea, dobbiamo farne altre di live. Sì, non mi sono sentito molto, accenti, perché conosco un po' tutti gli accenti, ma anche in America, per dirti una volta, ho fatto l'imitazione degli italiani che parlano in inglese, dei new yorkesi, li ho fatti quasi soffocare, perché li ho fatto tutte le varianti in inglese, di un veneto, di un napoletano, di un romano, di un milanese, è bellissimo il suono, no? Cambiato, lo faremo la prossima volta. Comunque, intanto, ti ringrazio per questa bellissima esperienza, perché ho seguito con molta attenzione molte tue interviste, e so che sei un bravissimo batterista, quindi appena sarà possibile vedersi di persona, voglio fare assolutamente una jump session, sei anche uno zappiano, quindi vorrei proporti qualche brano di zappa, che potrebbe essere molto divertente, proprio dove c'è Rabozio, tra l'altro. e grazie a tutti i colori che ci sono. Ah, speravo senza batteria, magari, speravo. No, come no? No, pura la batteria. Speravo le pause, le pause posso fare, di bozio posso fare. No, vabbè, sarebbe un onore, un grande onore, veramente. Perdona per questo blackout, ma domani... No, beh, sono cose che succedono, no? Non ho la possibilità di eliminare... Certo, e poi tutti i colori che ci sono corretti. Non dovrebbero, ma... Sì, poi ringrazio tutti i colori che ci sono corretti. C'è stato veramente un sacco di gente, e un sacco, un sacco, un sacco di domande, che purtroppo, chiaramente, io preferivo starti ad ascoltare, sinceramente, che giravate tutte le domande. Mi scuso con i ragazzi, però, c'era questo flow, ed era giusto che continuasse, quindi, no, ti ringrazio veramente, Andrea. No, è stata una bellissima esperienza. È stato un grandissimo piacere, ci... Sì, ci salutiamo, e volevo anche salutare un po' tutti gli amici batteristi che ho citato prima, a Cordino, Napolitano, Visetta, insomma, tutti i musicisti con cui ho diviso dei bellissimi momenti, altri amici con cui dividiamo dei momenti di musica, che parliamo sempre di musica. Abbiamo parlato, appunto, anche delle tue interviste. Popino Quaglia, che è un mio carissimo amico batterista, con cui, tra l'altro, abbiamo oltre fatto delle jam session feroci. Mi ha dato anche l'opportunità di studiare a casa sua la batteria quando feci il primo disco, tipo tre ore al giorno, che la batteria, come sai, è sempre un problema, quindi, insomma... E tante altre persone che, insomma, mi seguono e mi fa molto piacere, e anche con la... Ah, ecco, una cosa importante che mi dimenticavo assolutamente. Devo ringraziare particolarmente un ragazzo di Codogno, che si chiama Massimo Gazzola, che mi ha seguito in un'intervista e mi ha detto, guarda, tu hai delle possibilità di fare delle cose, devi raggiungere assolutamente più pubblico, però devi migliorare nei video, nelle cose. Mi sta dando un aiuto notevole e sto vedendo dei risultati grandi, quindi lo ringrazio pubblicamente, perché mi ha dato proprio un'opportunità di entrare in un mondo che prima non consideravo, tipo quello di fare i video in un certo modo, la luce e la qualità dei video, che ci davo poca importanza. E quindi grazie mille, perché la pagina sta crescendo anche molto grazie a queste attenzioni, le foto come sono fatte, cioè tutte cose che hanno una loro importanza. Chiaramente ci vuole quella musica. Ecco, ho finito. Eh certo, eh certo. Grande Andrea, grande. Allora, buonanotte, buona serata a tutti. Grazie di questa bellissima serata. Ciao ragazzi. Ci vediamo presto, ok? Un abbraccio. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Mi stacco, vero? Sì.